Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete il titolo sarà una parola cantata, ovvero perché ho un bigliettino su questi dove c'è una parola dove io devo creare una storia cantata con queste parole. Cominciamo. Prendiamo come la parola, la parola è cigno. Un bel giorno, un lago, si trovò un brutto, un altro colore. Che un bel giorno vi verrà un bellissimo cigno. Se il video vi è piaciuto mi dette un like, scrivetevi al mio canale, ma prima di solitarvi una cosa devo dire. Se vostra vita è grigia, solidete perché avete una vita sola. Ciao, alla prossima! Grazie. 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 Grazie.